Grazie a tutti Prima o poi asciugherò le mie ferite con il fuoco di un valore E mi sentirò felice nella vita che farò Prima o poi non qui, non purtroppo con te Non qui, non adesso, perché? Perché non basta stare insieme per dire che va bene Che un altro ci appartiene ancora sì Ormai parliamo il singolare Che mi fa troppo male Perché eri parte di me Prima o poi avrò una casa circondata da me E' una rosa che, quella rosa che non sei Non per me Perché non basta stare insieme Per dire che va bene Che qualcosa ci prattiene ancora sì Ormai parliamo il singolare E tutto ci fa male Lo sai Io non ti sento uguale E tu non puoi cambiare E tu non ti sento uguale 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 Allora, un attimo, vorrei dire, per favore, per favore, vedete, da casa, certe volte, non chiamano, chiamano, mi urlano addosso, Neck ha messo all'asta la prima chitarra, no, la chitarra della tournée. La chitarra con la quale per la prima volta ho fatto la tournée in America Latina. Da base d'asta quanto mettiamo la chitarra di Neck? Eh, non lo so io. 500 euro. Allora, partiamo da 500 euro e dove lo facciamo appoggiare? Un attimo Neck, beh, me lo dice perché nel frattempo per la maglietta di Cledi sono arrivate al telefono di Orietta Berti 500 euro già per la maglietta di Cledi. E ancora Caterine Spack, Caterine Spack che c'è? 1000 euro, 1000 euro arrivate per la chitarra di Neck, la NST? Sì. È tua? Io, io. Allora, Laura Freddi, 1000 euro. Sì, come sto imparando a suonare la chitarra? 1000 euro, allora, la Spack mi ha dato questo anello, per chiudere, sì. Allora, questo anello, Caterina, perché? Perché non sapevo... Apriamo il microfono della Spack, grazie, prego. Perché non sapevo che mi sarebbe stata data questa macchina da vendere e quindi ho portato un anello mio. E quanto partiamo? Non saprei. Eh, corda, l'anello della Spack? Quanto? È un ricordo importante, no, per la Spack? Eh? Eh? È molto, è legato affettivamente? Sì. Eh? Sì. Beh, partiamo almeno da 1000 euro. 1000 euro, a me non si può, eh. Mi ti interessa, Freddi, 1000 euro, l'anello... Eh, che sarà... No, non avevo molti gioielli, preferisco per chitarla. No, insegno, regalalo a Roberta, 1000 euro. Basta che lei mi regala la Spack, non so, possiamo far... Eh, ho capito. Un animale. Eh, ho capito. Sei un animale. Per cercare... 1000 euro, regalo... Un attimo, brilli. Un bambino che offre 100 euro per il modellino. Bene, andiamo, abbiamo il bambino 100... Allora, dovete poi offrire qua anche più di 500 euro per avere la maglietta di Cleti. Siamo a 1000 per la chitarra di Neck, apriamo l'asta, insegno 1000 euro... Perché fai conti quei soldi miei? ...per l'anello di Cateri Spack. Ma per chi? 1000 euro per il segno. 1000 euro, bene, andiamo avanti. Ma a me, a me, a me... A dopo, pubblicità. Ma spende pure i soldi miei quel signore. Grazie. 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 Grazie.